Sgombriamo il campo da strumentalizzazioni o beghe politiche, a noi non interessano. In gioco c'è la dignità di lavoratori non pagati o retribuiti a singhiosso, in attesa di oltre un anno di arretrati, costretti in sedi non a norma e quindi non sicure, senza garanzie contrattuali, in una situazione di estremo disagio economico, logistico, umano. Il mese di novembre, versato in extremis, tampona solo una situazione che va regolarizzata. Per questo sono in agitazione i 1200 dipendenti Arpal Puglia, oltre un centinaio manifestato davanti alla Prefettura di Bari, affiancati da tutte le sigle sindacali, compatte. Patrizia Tomaselli e Pinarima per CGLFP Puglia, Giovanni Stellacci Cisla, Antonio Barnaba, Will Giacinto Bozzi CSA, Anna Pasquale tra i dipendenti Arpal. Situazioni politiche, non ci interessa, noi vogliamo ricevere uno stipendio puntuale tutti i mesi. E' importante che venga riconosciuto il diritto anche dei buoni pasto, visto che è un anno che non riceviamo buoni pasto. Che ci venga garantita la possibilità di fare smart working, come qualsiasi amministrazione. Per noi è importante che venga garantita la sicurezza sul lavoro, questo sì, lo possiamo dire. Che ci venga garantito, come diciamo, uno stipendio, perché siamo 1200 famiglie che mangiano grazie anche a questo lavoro. Quindi non mi va di parlare male dell'ente, non è questo che stiamo dicendo. Stiamo dicendo ascoltateci e dateci delle risposte certe. Al termine dell'incontro in prefettura con il capo di gabinetto, i sindacati hanno deciso unitariamente di inviare a prefetto e parte datoriale una richiesta di convocazione per avviare le procedure di raffreddamento del conflitto, confermando lo stato di agitazione fino a soluzione definitiva dell'avvertenza.